Via Libertà ad Agropoli ripulita dal degrado. Dopo anni di richieste da parte di numerosi cittadini, l'area di fronte alla fornace e il parco pubblico sarà riqualificata. Le ruspe sono entrate in azione nella giornata di ieri con la rimozione dei capannoni presenti, un'area lasciata per troppo tempo al degrado e spesso ritrovo di senza tetto ed extra comunitari. Le operazioni sono state avviate da privati. Ora gli agropolesi, dopo aver rappreso la notizia sui social, si chiedono cosa sarà costruito in quell'area. In tanti vorrebbero la realizzazione di una piscina comunale, altri una spa. C'è chi addirittura propone di costruire un parco acquatico, chi predilige una biblioteca e chi invece pensa che sarà costruito un centro commerciale. Insomma ce n'è per tutti i gusti. Intanto un'area importante come quella di campamento con l'abbattimento dei capannoni ormai nel degrado e la riqualificazione bonifica del terreno circostante è già un grande passo avanti per un'area da troppo tempo dimenticata e lasciata nel degrado.